Musica Libri.tv Riccardo Cristiano Siamo in escursione con l'associazione Santi 40 Martiri come ben sapete si occupa di promozione del territorio e di escursioni quelle che vedrete sono appunto le immagini dell'escursione fatta il 24 di marzo del 2019 ed è un sunto di ciò che invece andrete a vedere nelle prossime escursioni che saranno fatte appunto da qui a breve quindi vi invito a osservare le immagini e quindi buona visione La pianta di Ginestra qua è stata tantissimo ha avuto un largo utilizzo per due motivi una perché dalla Ginestra si ottiene un miele qualcuno qua si è avventurato nei tempi passati a farlo perché la pianta era dappertutto però al contempo ha un ottimo miele però è anche difficile da ricavare come miele e poi tu dicevi bene la differenza dei dialetti fra il dialetto diciamo della città di La Mettia Terme sulla Piana rispetto a quello montano soprattutto dell'area di San Biasi molto inerente al compleinterno Il Monte Mancuso è importante perché è l'ultima zona dove affiorano le rocce appenniniche verso sud che è proprio la finestra di Caronte salendo verso acqua fredda che sono le dolomie bianche che cavano pure a Sant'Elia grazie a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.